Io sento la voce nel quarto pulo, uno e tre voce! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! La voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo, uno e tre voce nel quarto pulo! Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Yeah.